Il bilancio è molto positivo, soprattutto per la disponibilità che tutti i giocatori hanno per lavorare. Stanno accumulando volume di lavoro fisico, anche tattico-tecnico, per questo sono soddisfatto. Abbiamo più giocatori nel settore difensivo, proprio per l'accumulare del lavoro. Per una partita in più abbiamo deciso di aggiustare e dare un po' di più minuti alla grande maggioranza dei giocatori che sono più o meno le basi della nostra squadra dall'anno scorso, di quelli che hanno rimasti e di conseguenza approfittarlo dando un po' di continuità a livello di sistema di gioco. Non è che sto lavorando molto, sto lavorando più componenti, concetti generali, più che specifici. Per questo abbiamo preso questa decisione, soprattutto per questo.